RAGGIO E VIRGILIO Il luogo dove si riunisce attualmente è il cerchio e il seno, in attività da 42 anni. La luce è insufficiente anche al di fuori della transa e la ripresa è a raggi infrarossi. Le riunioni avvengono nel buio assoluto perché la luce disgrega l'ectoplasma e lo strumento NT è ferito da una minima fonte di luce. Alle pareti alcuni ricordi della storia dell'esseno. Si vede il calco a portato di RAGGIO, una delle guide del cerchio e la tenda medianica. Manca il ricordo del poeta Virgilio che comunicò a lungo nel latino dei suoi tempi. Grazie. 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 Grazie.